ecco come si monta eh, la ti vuoi mettere a favore di telecamera poi è bastato no, ma è facile allora, prendi un levato allora, riuscite a mettere il vento vabbè, vabbè ma dentro tu così no hai due buchi là eh fai fuori uscire l'aria no, 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 non te ne fai ma fa questo guarda che questo qua è uscito fuori ma attaccala prima e poi se ti infili dentro quella roba non giusto vaffanculo ma la lasciamo qua è bene, è bene no, Natale, non ce lo metti, lascialo qua eccolo bello ritiralo fuori ritiralo fuori ho capito, ci sta la dieta che è prima che non giusto 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 ma non c'è un accesso di piccolo non c'è un accesso di piccolo non c'è un accesso di piccolo certo, certo ma questo è alla fine sì questa è di diretta quella che stanno sì ok eh, su due là tira con le due specchiette vieni la rosa si, quelle specchiette le avevano i bimbi la chiappa, metti la mano se posso giure le specchiette e tira a te, forte hai capito che cosa devi fare? che devi fare? adesso quello, giro, fai gli fare un'altra specchiette così ma si spezza? no, così, no, così allora, reggi, tu vieni tu, reggi, bravo, così ah, ah ah oh no no, no no, no